Ben ritrovati! Ben ritrovati! Ah, devo dire io! Ok, da Lego Mask Consultoria siamo tornati in un nuovo video di Jurassic Park 2 in Isla Sorna e faremo probabilmente sicuramente questo punto mappa che è campo di caccia. Ho pianure di caccia, campo di caccia. Quindi proseguiamo. Qua sono seppaglia. Masi, dai, velocizziamo un po' forse. Vediamo se puoi tentare di finire la mappa in questo video. E devi sconfiggere, poi comprare. Meccanico Ingen, acquista, vai. Vedi che sono bloccati e comprandoli e quindi mi sa che li dobbiamo prendere poi veramente. Cooper, Cooper. Cooper, giusto? Andiamo a salvare quante piante. Cioè non ci muoviamo mai dai 3 milioni, restiamo sempre lì. E ci sono sempre... c'è sempre la nostra figure là sotto. La davanti, il biglietto. Da te via. Chi è questo? Lavoratore in pericolo. E anche Cubodoro sbloccato. Dieter Stark. Cioè è scritto Dieter Dieter Stark. Oddio. È venuto dal trono di spade? Eh. Oppure dall'Iron, no. Il trono di spade ci sono più i membri dell'Iron. È un pochettino tagliata l'inquadratura sotto ma è proprio giusto pochissimo. Ma chissà ne crede. Vai. Anche questo tipo acquistato. Tutti poco costosi. Che sono? Comunque. Proseguiamo. Abbiamo rapidi e spediti senza rompere cose. Cosa? Rivolto per cinque secondi e quelle piccole feste mi trascinano l'arma sopra un albero? Avrei dovuto accettare quell'altra missione. L'arma sopra un albero sarà quest'albero. Guarda, guarda bene. Forse no, guarda un po' in via. Si, insomma. Metti anche le destinazioni se vuoi. Ah. Ah, là sotto, guarda. Ah, non è cattiva. Ma lui è scambola della scatola. Peter Ludo. Acquistiamo anche Peter Ludo. Ok. Andiamo anche a lui. Proseguiamo. Noi magari facciamo, non so se facciamo veramente un video di Jurassic Park 1. Non facciamo un video di Jurassic Park 1. Ve lo compriamo noi direttamente. Ecco il fucile. Andiamoglielo a dare subito. Tieni. Ok. Cubo d'oro. Sponcato. Ora. Lascio una piantina. Dove? Ah, ecco. Ok. Ci stiamo avvicinando praticamente a quasi la fine di questa mappa. Sì. Cioè, ce ne mola ancora un po' per arrivare. Ci vuole. Carini tutte queste cose. ... Allora, era roso. Ah, ma blu. ... Qui lo fanno pure vedere. E neanche... Eh, le Harry Potter... ...quel benedetto mini-kit lì in cui... ... dovevi picchiettare qualcosa. non so cos'era ah qua c'è qualcosa da fare sembrerebbero i pezzi di un gabinetto no no ah è il marshmallow io che ho pensato male ok su facilissimo questa zona l'abbiamo fatta questo direi proprio di sì campo di caccia completato ora andiamo a provare quanto c'è questo ma si non c'è almeno anche quello facciamo siamo i miei zazzo no e' zazzo 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 faccio un coso da non sa non sa è proprio non sa o si il senso ma no forse no sì forse sì no no a milano vicino sì te lo dico a me aspettavano l'isagine chi sei? ah la bambina stupida Katie Bowman acquistiamo anche Katie sotto una cascata ok ok qui c'è un livello bonus non può hai sul mio personaggino che ormai non è più di Lorenzo tu hai dettagliere collega vabbè senta ci vuole un raptor da qui mi sembrava abbastanza tutti attaccati di quel nostro raptor sento esistissimo proprio qui cosa l'ho preso che entusiasmo sempre più entusiasmo eh vabbè tutta ormai era finito cioè stiamo per finire questo ma poi teoricamente ci sarebbe anche il 100% teoricamente poi vediamo quando farlo e se farlo e tiriamo fuori questo tizio è lo stesso di là ma chi è questo? il lavoratore in fericolo è cubatano va bene chi sai cacciatore engine acquistiamolo personaggi inutili abbastanza anche questo fatto e lì c'era un cubo rosso? si allevativo che so che fucile che vuole stare bene questo è un cubo di respirazione ho un punto mezzo è un cubo rosso mattoncino rosso ah non è qui è là ma forse è più avanti non lo so vai spacca un po' tutto e palle c'era un fiorellino lì dove? l'unico fiorellino piantato lì in giallo questo non è un fiorellino ah ok basta pensavo fosse un'utilità fate quelle rocce non sono rocce quelle si quante monete ah forse è da qua no 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 è possibile il riservo qua ecco il rafton lì è l'unico eh sì sì però poi servo il rafton quindi non oh ma no 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 è sottolato ecco ah un percorso No Ah no, questa è semplicemente una coscia di polo Chi la devo dare? Dal dinosauro Ok Forse sarà il raptor Boh, che c'ho vera le cose Come viene di dare dentro la cacca del dinosauro? Facciamo prima questo Ah, si scava su un po'? Forse è da qui che si è arrivato Sì, è possibile Dai a dire Sì, per forza Sembrava tutto semplice invece Io cosa vorrei dire, sembrava tutto difficile Invece è abbastanza semplice Cioè non è troppo complicato Oh, un buon rosso sblocato Oh, evviva Oh, evviva Allora Tra le casse Ah, ok Dove sono le feci? Magari non ci vogliono le feci? Sì, sì che ci vogliono Per forza Ecco Elby Vicino a tu Coscia di pollo E ce l'abbiamo Poi c'è quell'altra cosa E poi c'era una pianta Sì, l'ho vista Ok Direi di concludere poi da qui, no? Non ci sia oltre che poi vengono vidro lunghi Anche se sono quasi sempre tutti Quanto? Questi qua quant'è ne ha fatto? Uno Due Due Con questa due Va bene Ah, beh, sì più sto La pianta carnivora Tieni piccola Dinosauro Malato Malato Curato Sì Malato Curato Ora andiamo a vedere se sono tutti Sì, lo dovremo E anche l'erba alta L'abbiamo completata Il prossimo video ci sarà l'ultima zona Che è il centro comunicazioni E poi ci saranno i veri Abbiamo fatto il centro di caccia No Campo di caccia E l'erba alta Diamo un rivederci da Rego Mastro Costruttore Speriamo che vi sapete di servire E al prossimo video di Jurassic World O di altro Non si sa Al prossimo video